Un writer dispone di un correttore ortografico che può essere usato in due modi, abbiamo il correttore con controllo automatico e il correttore con controllo ortografia e grammatica. Se premiamo il controllo automatico, vediamo che controlla ogni parola, sia quando viene decidata o già scritta, e visualizza una linea rossa ondulata sotto tutte quelle parole che sono errate, per la lingua che noi stiamo utilizzando. In questo caso, poiché precedentemente per questo paragrafo avevamo selezionato nessuna, quindi non eseguire il controllo ortografico, se mettiamo come lingua italiano, vediamo che in automatico vengono sottolineate tutte le parole in inglese che non sono riconosciute nel dizionario italiano. Ma se noi ci posizioniamo su una di queste parole e premiamo il tasto destro del mouse, vediamo che possiamo per esempio per quella particolare parola impostare la sua lingua originale, quindi in questo caso l'inglese. Vediamo che vediamo che Writer in automatico scompare la linea rossa ondulata. E così per le altre parole. Il tasto invece di controllo ortografia e grammatica esegue un controllo ortografico separato di un intero documento o di una porzione di testo selezionato. Quindi in questo caso, openoffice.org è scritto in rosso perché ovviamente non è riconosciuto come parola intera openoffice.org e ci dà dei suggerimenti di sostituirlo semplicemente con openoffice. Con il tasto destro del mouse vediamo che ci dà diverse opzioni. Quello per esempio di ignorare l'errore, perché ovviamente sappiamo che non sussiste. Oppure, per esempio, di poter scegliere un suggerimento, in questo caso visto che è impostata la lingua italiana, cerca di darci come suggerimenti delle parole che possono somigliare a Microsoft. Ma quindi noi ovviamente possiamo semplicemente o ignorare il tutto o impostare la lingua adatta per Microsoft, in questo caso l'inglese. Se selezioniamo Ignora tutto, verranno ignorate tutte le parole Microsoft. In questo caso, proviamo con openoffice. Facciamo ignora tutto. Vedete che scompaiono in automatico le sottolineature rosse sulla parola openoffice.org Grazie